così come il test del dna ha confermato quanto gli inquirenti sapevano già e cioè che il corpo ritrovato domenica 8 agosto lungo la pista ciclabile frate muevione era proprio quello di laura zigliani la 55enne ex impiegata del comune dell'alta valle camonica scomparsa tre mesi prima è probabile che l'esito degli altri esami uno su tutti il tossicologico che non arriverà prima di un'altra settimana non faccia altro che confermare quanto chi ha già lavorato sino ad ora sul caso sa pare infatti che gli inquirenti che sulle indagini mantengono il più stretto riservo si siano fatti ormai un'idea chiara su quello che sarebbe accaduto a laura zigliani il 7 o l'8 maggio le indagini accurate meticolose condotte dai carabinieri della compagnia di breno da quelli del nucleo investigativo del comando provinciale di brescia coordinati dalla procura della repubblica stanno facendo collimare tutte le tessere del puzzle intricato che questo caso ha messo sul tavolo nulla è lasciato all'improvvisazione tutto deve essere confermato in questo caso dalla scienza ormai è chiaro a tutti che il caso di laura zigliani è un caso di omicidio serve ovviamente dimostrarlo serve scoprire chi lo ha commesso come dove e perché finora tutto quadra è chiaro che le indagini hanno avuto una svolta nel momento in cui è stato trovato il corpo prima alcune tesi potevano essere considerate solo supposizioni oggi c'è qualcosa di tangibile su cui lavorare ed è probabile che una volta avute le risposte dalla scienza anche il resto del quadro possa essere ricomposto con maggiore chiarezza finora i pezzi del puzzle che si è presentato agli inquirenti all'indomani della scomparsa della donna una volta appurato che la ricostruzione che fosse stata vittima di una disgrazia in montagna era solo una montatura stanno tutti andando al loro posto ci vorrà tempo prima che laura zigliani abbia giustizia ma alla verità siamo probabilmente vicini ad attenderla c'è la famiglia della donna ma ci sono anche gli amici conoscenti le comunità dove laura era conosciuta ed apprezzata nessuno avrebbe probabilmente immaginato che potesse fare una fine del genere ormai è chiaro che laura non è stata vittima di una disgrazia non sia neppure suicidata il suo corpo ritrovato nei pressi della pista ciclabile dopo le intemperie delle scorse settimane seminudo sull'argine dell'olio senza acqua nei polmoni senza segni di violenza o di fratture come ha finito di quel corpo meglio chi ce l'ha portato quando e con cosa cosa le hanno fatto prima di abbandonarla forse in una tomba improvvisata che la furia dell'acqua ha scoperchiato risposte che forse arriveranno a breve ad oggi nel registro degli indagati del fascicolo aperto a giugno dalla procura di brescia restano due delle figlie della donna la maggiore e la minore del fidanzato della prima sarebbero state proprio le loro dichiarazioni contraddittorie all'indomani della scomparsa furono loro anche a chiedere aiuto per il mancato rientro della mamma a far prendere una piega diversa a quello che poteva restare un semplice caso di scomparsa durante un'escursione tutto avrebbe potuto fermarsi lì ma i sospetti degli inquirenti hanno cercato la verità anche altrove di ritrovamento del corpo ha fatto il resto ora non resta che aspettare